Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in studio Silvia Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha avuto in questione un rialzo febbrile ed è in terapia con antipiretici nel tentativo di abbassare la febbre e consentirgli di recarsi in Puglia come da programma E quanto si legge nel comunicato diffuso questa mattina da Palazzo Grazioli in tanti ad attendere all'Hotel Palace l'arrivo dell'ex premier che probabilmente arriverà a Bari in serata Sentiamo l'annuncio del segretario regionale di Forza Italia Luigi Vitali E' successo che ha avuto un malore e quindi non si è ripreso da questo malore, ci auguriamo che possa riprendersi nelle prossime ore Quindi per il momento il prossimo aggiornamento è intorno alle 19 perché se riesce a ristabilirsi dovrebbe arrivare a Bari intorno alle 20 per partecipare alla cena a Bisceglie Quindi salta l'impegno di Bari e quello di Foggia purtroppo Certamente avete notato che l'organizzazione era già pronta per accoglierlo a partire diciamo dalle persone del suo seguito che avevano raggiunto Bari già nella serata di ieri Quindi ci sono le forze dell'ordine allertate quindi sicuramente si è trattato di un fatto imprevisto, imprevedibile che ci auguriamo nelle prossime ore possa essere risolto Col diretti Puglia incontra i candidati alla presidenza della regione per proporre la Puglia che vogliamo Il documento proposto dai quadri dirigenti nato in occasione della mobilitazione di luglio scorso in favore di una filiera agricola tutta italiana e soprattutto pugliese Misure urgenti per la crescita del paese, sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari e rigenerazione del settore Queste alcune delle richieste formulate Presentato questa mattina a Palazzo di Città il progetto Un Sacco in Comune a tutta plastica La competizione tra municipi organizzata dal Corepla in collaborazione con l'AMIU per incentivare i cittadini ad incrementare la quantità e la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi di plastica Tutti i dettagli in questa intervista all'assessore comunale all'ambiente Pietro Petruzzelli Sentiamo Un Sacco in Comune a tutta plastica, che progetto è? È una campagna del Corepla che è il consorzio che raccoglie la raccolta differenziata di plastica che voi cittadini conferite all'interno dei cassonetti Che ha ideato per, in una sorta di competizione tra quartieri, di sana competizione tra quartieri della città Per stimolare i cittadini e sensibilizzare i cittadini ad aumentare la raccolta differenziata della plastica È una delle tante iniziative di sensibilizzazione condivisa o promossa dall'amministrazione comunale per convincervi a differenziare Guardate, differenziare è semplice, ci vuole solo un po' di buona volontà Quando partirà questa competizione? Partirà nei prossimi giorni e durerà in un lasso di tempo in cui si calcolerà la differenza, la plastica raccolta in questo periodo, in questo lasso di tempo E il quartiere che raccolerà la maggiore quantità di plastica riceverà un premio, riceverà una giostrina da posizionare in una zona del quartiere Che voi cittadini deciderete, ma solo i cittadini che sono i più virtuosi Pagina della cronaca, dopo aver perseguitato l'ex moglie, 38enne con telefonate, whatsapp, pedinamenti e aggressioni sul luogo di lavoro E' riuscito ad introdursi in casa della donna, le ha danneggiato i vestiti, ha installato in sala da pranzo e in cucina due micro spie dotate di sim a lui intestate Con l'accusa di atti persecutori, i carabinieri hanno arrestato un 46enne di Adelfia nel Barese La donna in più occasioni ha temuto per la propria incolumità e ha cambiato abitudini e stile di vita Bari si tinge di colori, arriva primavera mediterranea da oggi fino a presto Le strade del centro cittadino si trasformano in oasi di verde Il servizio di Cristina Ferrigni Bari sboccia e le strade si tingono dei colori della primavera Le vie del centro cittadino si trasformano in ampi giardini pronti ad accogliere eventi d'arte culturali E' primavera mediterranea, l'iniziativa promossa dal comune di Bari per il quarto anno consecutivo Da oggi fino a sabato le allestimenti dei vivavisti che partecipano alla manifestazione Trasformeranno il volto di via Argiro, via Roberto da Bari e piazza Umberto In piccole oasi di piante e fiori con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla cura del verde e degli spazi pubblici Nel progetto sono coinvolti anche i commercianti, alcuni dei quali hanno allestito a tema le vetrine dei loro negozi Fiori e frutti di stagione ai protagonisti delle installazioni di via Argiro nei giardini edibili Contemporanei ed edibili, nuovi perché hanno a che fare con tutta quella tipologia di piante, di fiori e di erbe Che possono ovviamente essere comestibili Tant'è vero che all'interno di via Argiro abbiamo nel terzo isolato una zona dedicata allo show cooking Dove si altereranno degli chef molto competenti Eventi collaterali in via Roberto da Bari dove giovani artisti si fanno promotori di nuove iniziative Cos'è Bari Varte? Bari Varte è un evento che nasce all'interno della manifestazione Primavera Mediterranea In cui si è voluto ricreare l'idea di un boulevard E quindi abbiamo alberi all'interno del quale possono svolgersi una serie di eventi culturali e artistici Cerco di rappresentare attraverso la mia arte quello che può essere il tema della giornata Cosa verrà fuori? Ecco diciamo che vi do un'anticipazione È uno scontro tra la natura quindi rappresentata da madre natura E l'inquinamento rappresentato da un teschio insomma Una cinquantina tra studenti e giovani disabili baresi hanno sfilato in corteo questa mattina davanti alla Basilica di San Nicola Un modo per onorare il santo nei giorni della sua festa Ad accoglierli i padri domenicani insieme con il sindaco di Bari Antonio De Caro Numerose le richieste dei diversamente abili al sindaco In particolare l'abolizione delle barriere architettoniche Per rendere facile l'accesso in tutte le zone della città Immediata la risposta di De Caro Stiamo già preparando una mappa delle barriere da abbattere Grand Tour della Svizzera e novità sui trasporti Primavera-Estate 2015 Tutti i dettagli in questo servizio Un percorso di 1600 chilometri che comprende 44 attrazioni, 22 laghi, 11 siti UNESCO, 5 passi alpini e sorprendenti escursioni Nasce il Grand Tour della Svizzera, l'itinerario circolare che consentirà di esplorare le attrazioni più rappresentative e suggestive del paese Questa mattina la conferenza stampa di presentazione organizzato da Svizzera Turismo Insieme a Swiss Travel System, Swiss International Airlines e Ferrovia Eretica Novità anche sui trasporti per la primavera-estate 2015 Il Grand Tour della Svizzera perché il Grand Tour si addice perfettamente a un paese come la Svizzera Un paese piccolo di circa 40.000 km2 con poco più di 7 milioni di abitanti Ma che nella sua dimensione così ridotta è molto vario Si sa che la Svizzera ha 26 cantoni, ha 4 aree linguistiche Quindi 4 sono le lingue ufficiali E questo naturalmente ha portato anche a delle diversità nette da un punto di vista culturale, storico, gastronomico Novità anche sui trasporti però Assolutamente, per poter portarvi più facilmente verso il nostro paese Ci sono nuovi collegamenti aerei della Swiss Oltre naturalmente alla possibilità di viaggiare in treno magari fino a Milano E poi usufruire del Grand Train Tour Quindi questo tour fatto con il treno In azienda si fa gruppo attraverso il teatro Oltre il mare lo spettacolo è andato in scena ieri sera al Teatro Forma Frutto della politica del gruppo Fincons Che vede nella rappresentazione teatrale il modo migliore per creare un team di lavoro affiatato Barbara Cirillo Devi tenerti aggrappata a un pensiero Ma il fatto è che non c'è più un pensiero Oltre il mare oltre le barriere aziendali Nell'impresa italiana si fa rete attraverso il teatro E questa è la politica del gruppo Fincons La società di business consulting specializzata nello sviluppo di software, gestione e manutenzione di applicativi 8 sedi in Italia e in Svizzera 750 dipendenti di cui 300 nella sede barese Ma tutto questo all'ingegner Moretti, amministratore delegato dell'azienda, non bastava E così quattro anni fa ha deciso di fondare il laboratorio teatrale Fincons Tecne Che ha da subito coinvolto tutti i dipendenti del gruppo Sono loro infatti i veri attori sulla scena delle opere teatrali Scritte e riscritte dalla regista Anna Maria Delzotti Come quella rappresentata sul palco del Teatro Forma ieri sera Oltre il mare, uno spettacolo liberamente tratto da Oceano Mare di Alessandro Baricco È una storia molto cruenta, vera, di una zattera alla deriva su cui succede di tutto Si arriva purtroppo al cannibalismo Quindi abbiamo dei momenti molto drammatici Giustamente inframmezzati con altre scene Dove nella prima parte c'è la presentazione di questi diversi personaggi Del pittore per esempio che dipinge le tele con acqua di mare Quindi tutte le sue tele sono bianche Del professore che misura dov'è la fine del mare Dell'adolescente che ha paura di vivere la vita I dipendenti attori si impegnano ogni settimana in prove, studio e analisi del testo La convivenza forzata diventa così il mezzo migliore per creare un team affiatato Fuori e dentro l'ambiente lavorativo Una politica aziendale vincente a cui l'amministrazione pubblica però non dà la giusta attenzione Come ha dichiarato l'ingegner Moretti Io ho portato a Bari questa nostra esperienza Noi abbiamo creato la società come molti Dicevo che giovani si laureano e non trovano lavoro Noi siamo stati così, sono andato a Milano Ho creato questa società e poi l'ho portata un po' a Bari Contando un po' nelle strutture regionali che aiutassero verso l'occupazione che io ho fatto Io ho dato lavoro negli ultimi anni a 300 persone Non ho avuto alcun investimento da nessuna struttura né regionale né altro Però andiamo andati nella nostra strada, lavoriamo per sociale E cerchiamo di portare un messaggio all'interno e all'esterno Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore Cielo sereno, temperature comprese tra 16 e 30 gradi Venti moderati, mare calmo In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net e infochiocciolesegnodizorro.it Il telegiornale finisce qui Grazie per averci seguito più tardi con informazioni di Telebari Grazie per aver guardato il video